Diego Piacentini, Senior Vice President di Amazon, gli chiediamo perché ha scelto di partecipare al Digital Economy Forum. Ovviamente come italiano, quando sono stato invitato a questo convegno da parte dell'ambasciata, il mio cuore italiano ha deciso che dovevo assolutamente partecipare. Quali sono i trend che vedi per il futuro della Digital Economy dalla tua prospettiva all'interno di Amazon? Quello che vediamo che sta accelerando in maniera vertiginosa è il mobile commerce, quindi lo sviluppo dell'e-commerce tramite smartphone, tablet e tutti i mezzi che permetteranno ai consumatori di comprare non più al classico PC al tavolino ma ovunque si trovino nel mondo. Grazie.